Il gol adesso mi sembra quello di Dzeko, ma poi anche successivamente sul gol di Florenzi, di un abbraccio complessivo di tutta la panchina con scatenati Francesco Totti e De Rossi, cioè i due totemi, i due romani, sono i due che sentono di più questa partita. Che sono il primo ad essere dispiaciuto di non aver fatto entrare Francesco Totti oggi, il primo da tifoso ad essere dispiaciuto a non averlo fatto giocare, però poi quando mi riseggo e mi calo in panchina devo tenere di conto di quelle che sono le cose di cui ho parlato e che mi ci vogliono altri calciatori forti come lui.